e da quel giorno la sovrana dei mari venne chiamata il diavolo d'oro la sua bellezza la sorprendente ricchezza delle decorazioni furono seconde solo alla sua potenza di fuoco costruirla sarà un'emozione dal piano velico al ponte di coperta fino ai decori di poppa fascicoli e dividiti accompagneranno nella costruzione della sovrana dei mari esporla sarà una gioia la prima uscita in edicola a soli 99 centesimi de agostini